Ben ritrovati dalla redazione di Firenze Smart, Cesare Martignon in vostra compagnia. Qual è la trattina 1 tra Firenze Nord e il BV1 variante di Valico in direzione Bologna per traffico intenso? Via dello statuto chiusa in direzione Fortezza Firenze tra via della Cernaia e Piazza Costituzione per incidente? Fino al 16 ottobre è nuovamente possibile accedere alla promozione bonus TPL Firenze per l'acquisto di abbonamenti annuali al servizio di trasporto pubblico locale. Bus, tramvia, treno, cittadino. Per la richiesta accedere alla sezione parti con noi dell'app IF. Fino al 7 settembre per lavori alla linea ferroviaria tra Ulla, Lunigiana e Castelnuovo, Garfagnana, cancellazione di treni e corse con bus per le corse regionali. Lavori per il raddoppio ferroviario tra Empoli e Granaiolo. Circolazione interrotta fino al 31 agosto per bonifiche e allestimento cantieri. Attivati bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.